Billy Graham disse Il più grande gesto d'amore che possiamo compiere verso un'altra persona è parlarle dell'amore che Dio ha mostrato attraverso Gesù Cristo Dal 7 novembre 2018 la Billy Graham Evangelistic Association proietterà in tutta Italia il film La Croce Presentato dalla Billy Graham Evangelistic Association come parte del progetto My Hope Italia Il film sarà disponibile gratuitamente per le chiese, i gruppi cristiani e i singoli credenti che vorranno partecipare Tutto ciò che ti serve è avere un luogo per riunire le persone che inviterai Uno schermo su cui proiettare il film Pianifica degli eventi nella tua chiesa Oppure organizza un evento in uno dei centri di ritrovo della città In un teatro, negli istituti penitenziari, negli ospedali, nelle università, nelle case di cura O nei centri d'accoglienza Oppure apri le porte di casa tua per un incontro familiare La Billy Graham Evangelistic Association ti sosterrà durante tutto il corso del progetto My Hope Italia Inizia a condividere Gesù Visita il nostro sito www.myhopitalia.it E la nostra pagina Facebook My Hope Italia www.myhopitalia.it 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 Grazie a tutti.